Non vogliamo essere dei catastrofisti, però la fotografia deve essere ben precisa. Sta pagando più delle altre il prezzo della crisi la provincia di Pesero Urbino che ha chiuso un altro anno difficile con un quadro del territorio che si è ormai trasformato in modo definitivo. Così il presidente provinciale della CNA Alberto Barilari che nei giorni scorsi, insieme al segretario Bordoni, ha fatto un bilancio della situazione economica negli uffici di un supermercato della città ducale a dimostrazione della vicinanza al mondo del commercio. Dai dati elaborati dal Centro Studi regionale risulta che cifre e indicatori sono quasi tutti orientati al segno meno. Infatti le imprese attive in provincia alla fine del mese di novembre ammontavano a 34.973, diminuendo di 484 unità rispetto al 2017. E a livello marchigiano solo la provincia di Fermo ha fatto peggio di quella pesarese. Ma non solo, confrontando i dati degli ultimi dieci anni è emerso che hanno chiuso i battenti oltre 4.600 imprese e nessun'altra provincia nelle Marche ha registrato dati peggiori. La diminuzione riguarda in particolare le manifatture seguite dal commercio e dalle costruzioni. Un timido segno positivo lo registrano invece i settori del turismo e della ristorazione, le attività finanziarie e assicurative, i servizi a persone e famiglie e quelli sanitari, sportivi e culturali. L'economia vuole stabilità, certezze, vuole tranquillità. E osu dire che sia a livello nazionale per le politiche espresse anche dall'ultimo governo, sia dai frangenti internazionali che sono dovuti a protezionismi di ritorno, terrorismo, altri avvenimenti che non lasciano tranquilli sia i cittadini che gli imprenditori, naturalmente questo è il risultato poi, abbiamo una stagnazione. Nonostante i dati emersi la CNA di Pesero Urbino cerca di cogliere e valorizzare gli aspetti positivi visto che segnali importanti arrivano sul fronte delle esportazioni grazie alle quali stanno crescendo alcuni settori storici come la meccanica, il mobile e la nautica che sta riprendendo vigore. Bisogna incentivare le aziende che esportano perché non è vero che il mercato poi è solo per loro perché dopo rientra a casa tutto l'indotto. Noi abbiamo diversi casi di persone che prendono anche insieme degli appalti all'estero e poi fanno le lavorazioni, le fanno fare tutto all'interno del nostro indotto nella nostra provincia. È un momento importante perché il mercato interno purtroppo è ancora fermo e quindi quello che chiediamo con forza alle istituzioni è di mettere al centro della gente al problema dell'impresa perché noi creiamo lavoro, benessere e creiamo anche pace sociale. Se non si capisce questo l'Italia avrà grossi problemi in futuro. E soprattutto io dico anche di grande senso di responsabilità, evidentemente è stato recepito.